Eh sì ragazzi, eh sì, eh sì, eh sì, è SIG Parade, è SIG Parade ragazzi, è SIG Parade. Allora, 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 le 10 notizie più importanti di calciomercato del giorno le raccogliamo qui per voi nel SIG Parade. Ma prima di iniziare, come sempre, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare una marea di mi piace, perché se lasciate una marea di mi piace, tra due ore esce già il SIG Parade. Ma vi ricordo che ogni giorno, comunque, alle ore 12 per tutto il mercato, uscirà il SIG Parade. Quindi vi accompagnerà per tutta la durata del calciomercato questa rubrica dove andremo a collezionare le 10 notizie di mercato più importanti del giorno. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo, partiamo dalla posizione numero 10, ovvero la Sampdoria si sta rivoluzionando. Deve farlo necessariamente, lo sta facendo e lo fa dopo aver preso l'Amerts, è pronta a prendere e lo prenderà in queste ore. Cioè, in realtà, già se lo defino tutto quanto, ma ci sarà la firma in queste ore, anche Nuitink dell'Udinese. È un acquisto interessante, è un acquisto molto molto buono. Sarà un giocatore della Sampdoria per i prossimi sei mesi. Tra l'altro, va detto anche che l'Udinese si è trovata costretta a trovare una soluzione per lasciar partire Nuitink. Perché? Perché il contratto del difensore friulano scadeva tra sei mesi, a giugno. E quindi o lo avrebbe perso a zero o avrebbe cercato una soluzione. Quindi, lo afferma Sky Sport, Nuitink andrà a giocare per la Sampdoria e sarà il primo rinforzo ufficiale della Samp in questo calciomercato. Molto molto interessante, devo dire. Ne parlavo ieri nel video qui dal calciomercato sul primo canale. È un acquisto che andava necessariamente fatto, è un giocatore che andava necessariamente preso. E allora, ecco che la Samp inizia a muoversi in ottica calciomercato. Posizione numero 9 per un altro acquisto. Anche questo super interessante perché anche in Lecce si deve necessariamente muovere per quel che riguarda il calciomercato. E lo va partendo dall'acquisto di Youssef Male. Male, calciatore della Fiorentina. Male, 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 male. Che non trovava spazio con la Fiorentina, arriverà in prestito oneroso. Quindi Lecce darà qualche soldo alla Fiorentina. Quindi la Fiorentina in ogni caso degli spicci da quest'operazione li percepirà. Poi a fine anno si capirà se rimarrà a giocare in Salento o seppure tornerà a giocare alla Fiorentina. Come? Se il Lecce si salva c'è l'obbligo di riscatto. Quindi deve riscattarlo per forza, deve pagare per forza il riscatto. Di cui ancora non c'è dato sapere la cifra completa. Qualora appunto il Lecce si dovesse salvare. Per me Male è un buon centrocampista. Lo vedevo già lo scorso anno veramente bene bene bene. La Fiorentina quest'anno ogni tanto l'ha messo in campo. Ma tante altre volte non gli ha dato quella continuità che magari l'avrebbe potuto rendere un centrocampista titolare della Fiorentina. Poi diciamo anche che c'è la storia delle situazioni in cui ha esploso Amrabat. La Fiorentina ha dovuto fare i conti con una rosa molto molto lunga. Vi basti pensare che Benassi, che non è un top player, però è un centrocampista comunque buono, è comunque fuori dal progetto Fiorentina. Manco è all'interno delle varie liste campionato, coppa eccetera. E quindi questo ci fa pensare quanto, è vero che la Fiorentina fa la conference, però quanto la rosa è davvero 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 lunga. Per il Lecce invece è un rinforzo importante, è un rinforzo che tra l'altro potendolo prendere a tempo indeterminato, cioè potendolo prendere ufficialmente, non in prestito ma a titolo definitivo, ecco non mi veniva il termine, allora si potrebbero aprire degli spiragli in cui il Lecce sta veramente mettendo in piedi qualcosa di futuribile, anche in ottica prossima stagione, qualora i Salentini dovessero centrare l'obiettivo salvezza nel massimo campionato. Posizione numero 8 per la Lazio che sta cercando il vice Ciro Immobile, come te sbagli il calciomercate ha un apostrofo tra le parole Lazio e vice Immobile. E i calciatori, vice Immobile opzionati, anzi il calciatore numero 1 vice Immobile opzionato è Bonazzoli della Salernitana. Bonazzoli deve lasciare la Salernitana, lo stanno proponendo a tutti, l'avrebbero proposto anche alla Lazio. Attenzione però, perché? Perché lui ha un ingaggio importante e quindi non è che Lotito abbia sta grande intenzione di offrire un ingaggio importante ad un vice Immobile. Vorrebbe prendere piuttosto un vice Immobile low cost, vi ricorderete che aveva provato a fare la corte a Simeone che poi è andato con grande successo a giocare per il Napoli, mentre la Lazio si è accontentata di adattare i cancellieri che punta non è e mettendoci spesso Felipe Anderson come al derby con ottimi risultati o successivamente con dei risultati meno ottimi. Immobile quando c'è gioca sempre, però nel caso di infortunio come è successo in passato allora vanno fatte delle valutazioni. Attenzione ad un'altra possibilità, ad un'altra pista per quanto riguarda il discorso centravanti vice Immobile, ovvero Sanabria che tra l'altro ha giocato a Roma anni e anni e anni fa e poi non si è più visto, è andato in Spagna, è rinato ed è tornato in Italia. Sul Sanabria sembra che la pista sia sicuramente più percorribile perché Sanabria è un attaccante che ha un ingaggio basso, è un attaccante che potrebbe accettare di cedere alla corte della Lazio per tornare della capitale per fare il grande salto, l'unica cosa è che questa è una voce, cioè è una sorta di operazione uno più uno, cioè un attaccante che è in uscita, la Lazio cerca un vice Immobile, lui che vuole fare il grande salto, allora eccolo là, però realmente non si è mai parlato di qualcosa di concreto, cioè non sappiamo se la pista che lega Sanabria alla Lazio sia reale oppure sia frutto di un calciomercato semplice, di un calciomercato facile. Per quanto riguarda la posizione numero 7 abbiamo la Juventus che continua a pensare se rinnovare o meno il contratto ad Adrienne Rabiot. Qual è il problema? Il problema è che da ieri circa, quindi dall'apertura ufficiale del calciomercato, in realtà non per il calciomercato, dal primo di gennaio, ecco diciamola così, Adrienne Rabiot è libero di firmare un precontratto con qualunque squadra perché a giugno va in scadenza e quindi la Juventus lo terrebbe fino a giugno, ma poi lo perderebbe a parametro zero. Ne parlavo nel video di ieri, diciamo ribatto il ferro oggi, Adrienne Rabiot vorrebbe andare via a parametro zero, non partire con un riscontro economico dato alla Juventus, non con un incentivo perché si troverebbe di fronte ad una situazione in cui non può alzare drasticamente il proprio ingaggio. Dall'altra parte addirittura la Juventus, e solitamente la squadra dovrebbe voler monetizzare, non vuole monetizzare, Allegri avrebbe chiesto, se non riusciamo a rinnovare il contratto lasciatemelo fino a giugno perché io ne ho bisogno fino a giugno, se me lo vedete domani non so chi andare a prendere. Qual è il problema? Il problema ragazzi è che se Rabiot prendeva sette, che erano tanti 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 e la Juventus per cinque anni è stata lì a dire, no però sette sono tanti, no però sette sono tanti, no però sette sono tanti, oggi Rabiot non ne chiede meno, ne chiede dieci, ne chiede dieci. E quindi la Juventus si trova davanti a una situazione in cui o fa pazzie, ma per me sono proprio pazzie, sarebbe una decisione impensabile a mio avviso e non comprenderei, oppure decide di lasciarlo andare. Però il calciomercato dà ragione a Rabiot, perché sul calciatore ci sarebbero Manchester United e Tottenham di Antonio Conte. Quindi Adrienne Rabiot ha una corte spietata da due squadre di Premier League che lottano per andare in Champions League e che sono importanti, tra l'altro si stanno giocando il quarto posto, una quarta e una quinta, ne parliamo nei video che faccio continuamente, ultimamente sul primo canale per quanto riguarda la Premier League. Insomma la Juventus ci sta pensando, ma non a quelle cifre, Rabiot sotto quelle cifre non scende. Posizione numero sei per l'Atalanta che probabilmente perderà un pezzo, infatti Malinowski sembra essere destinato ad indossare la maglia dell'Olympic Marsiglia. Il Marsiglia perderà Gerson, quindi ha già provato a capire come percorrere le viste future che porterebbero al sostituto di Gerson e il centrocampista fantasista ideale per sostituire l'ex Roma sarebbe proprio il calciatore atalantino ucraino. Si sta parlando, il Marsiglia chiede di prenderlo in prestito con un diritto di riscatto, ne parla RMC Sport, l'Atalanta sarebbe anche disposta a trattare, l'unica cosa è che si cerca di avere un vantaggio. Ecco, il vantaggio è quello che porterebbe in qualche modo il calciatore a Marsiglia, ma a titolo definitivo, che l'Atalanta non si debba poi ritrovare a rielaborare l'operazione l'anno prossimo o cercare di capire dove piazzarlo, perché magari essendo stato prestato al Marsiglia è rimasto fuori dal progetto, dietro negli schemi di Gasperini. Ecco, l'Atalanta continua con il diktat o con me o contro di me, quindi se si priva di un calciatore, magari a gennaio, perché? Perché lui non vuole più, perché l'Atalanta non lo ritiene indispensabile, perché c'è una squadra che ci punterebbe maggiormente, allora l'idea che pone l'Atalanta è quella di dire a me va bene, però te lo prendi o in prestito con obbligo o a titolo definitivo, però il calciatore non deve tornare qua. È curioso come il calciatore ucraino sia sempre più tramontata la possibilità di vederlo comandare l'Atalanta, nell'Atalanta, perché poi l'Atalanta è una squadra che ha sempre puntato su Ruslan Malinoski, c'è stato un anno in cui sembrava veramente fenomenale, e adesso invece arriva a poter partire in prestito con diritto di riscatto. Per me è una cosa davvero impensabile, una debacle, se posso essere sincero, se posso essere chiaro con voi, quasi inaccettabile. Posizione numero 5 per un rinforzo molto molto vicino al Monza. Dall'Ella Severona dovrebbe arrivare Darko Lazovic. Lazovic che in realtà io mi aspettavo qualche anno fa fosse pronto al grande salto, potesse andare a giocare in una piazza importante. Il Monza invece sta facendo da piazza intermedia per diventare grande, e Lazovic è l'occasione nuova per creare questa sorta di futuro qua. L'esterno d'attacco dell'Ella Severona andrebbe a giocare al Monza in prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Quindi una cifra relativamente bassa che il Monza sarebbe anche disposto a spendere, lo sappiamo, no? Gagliani e Berlusconi sono pronti a fare una squadra che quest'anno si salverà spasso e che magari il prossimo anno riuscirà addirittura a centrare il piazzamento Conference League. Lazovic sarebbe l'ennesimo acquisto nel caso del Monza, questa volta dal Verona, per depotenziare innanzitutto una diretta rivale, perché il Verona in qualche modo, soprattutto per il discorso salvezza, resta una diretta rivale, ma soprattutto per rinforzare la squadra che è stata data Raffaele Palladino, che con un esterno come Lazovic potrebbe davvero fare le sue fortune. Quindi attenzione perché il discorso relativo a Lazovic, che adesso è molto 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 vicino al Monza, potrebbe essere l'ennesimo acquisto giusto, corretto, che il Monza farebbe per rimpinzare la propria compagine, nonostante avrebbe in realtà bisogno prima di vendere, in quanto la rosa è davvero tanto tanto affollata e 5-6 calciatori vengono definiti come esuberi. Posizione numero 4 per una grana dell'Inter. Grana dell'Inter perché Dalbert non rimarrà a giocare a Cagliari e quindi tornerà sulle spalle dei Nerazzurri. Probabilmente però ripartirà subito, la Repubblica parla della possibilità di vedere Dalbert immediatamente con un'altra casacca, ovvero quella del Genoa. Ora io voglio fare una piccola premessa che in realtà importa poco o nulla, però voglio farla. Io resto basito di come molto spesso le nostre squadre abbiano sbagliato acquisti. Cioè io ricordo quando si parlava di Dalbert all'Inter e quando l'Inter prese Dalbert. Cioè si parlava di un calciatore che avrebbe fatto il terzino del futuro dell'Inter. E anche quando Dalbert veniva girato in prestito, insomma l'impressione iniziale era quella di poter vedere un giocatore che poi in qualche modo, magari dalla porta di servizio, magari dalla porta sul retro, in qualche modo sarebbe rientrato a casa base e avrebbe ripreso fortemente, come posso dire, avrebbe ripreso fortemente il comando. Questo non è mai successo. Cioè Dalbert non è mai entrato negli schemi dell'Inter e la cosa che mi stupisce di più è che adesso davvero rischi di rimanere in serie B, nel giro della serie B per sempre. E questa è una cosa che mi dispiace. Poi magari andrà al Genoa, andrà su il Genoa, cosa che sinceramente dubito, e rimarrà con il Genoa a giocare e lo riscatterà. Non lo so, io magari faccio delle analisi. Attenzione, perché saliamo sul podio alla posizione numero 3, Volis la Madonna, probabilmente, no probabilmente, il Galatasaray è interessato a Matias Vigna. Che bello, che bello. La Roma ne ha messi due sul mercato di terzini. Uno è Karsdorp, sul quale c'è, di tutte le tue, c'è la Juve, c'è il Marsiglia, c'è il Ajax, c'è il Fulham, c'è il Lille. Mentre per Vigna tutta sta fila non c'è. Però il Galatasaray, che è turco, avrebbe bussato alla porta della Roma e si sarebbe detta interessata. Allora, anzi, si sarebbe detto interessato. Allora, io vi dico la verità, per quanto mi riguarda, come disse Ersaggio, ma magari tutto attaccato. Cioè, nel senso, a me personalmente, di Vigna me ne importa poco o nulla. Io non so se voi pensate che Vigna possa in qualche modo essere un futuro... però, ragazzi, Vigna a sinistra ogni volta che ha giocato ha fatto più danni della Grandine a Roma. Di Vigna, quando è arrivato, è arrivato perché si era rotto Spinazzola. Si pensava di poter aver trovato un altro terzino valido quando l'abbiamo comprato. Invece ha fatto veramente solo e soltanto danni. Ma solo e soltanto danni, ma veramente. E poi è esplosato Zaleschi. Quindi, in questo momento, io manco ci voglio pensare a Vigna. Se Vigna volesse andare via e dovesse andare via, io dico, ma magari Vigna andasse via. Quindi, per quanto mi riguarda, la porta è quella e lui può tranquillamente andare. Ovviamente ha le giuste cifre, ovviamente sperando che non sia un prestito, ovviamente augurandomi di non ritrovare meno quattro ad anno. Però, se Vigna decidesse di andare e ci fosse la possibilità, io lo impacchetterei e lo darei via. Posizione numero due per Icardi e per l'Al Nasr. Infatti, dopo aver preso Cristiano Ronaldo, la squadra di Rudy Garcia, pensa anche ad un altro colpo pazzesco, ovvero Mauro Icardi. Tra l'altro, già pare ci siano stati dei contatti diretti, ovvero pare che l'Al Nasr abbia già contattato il Galasarai e abbia provato a prendere Mauro Icardi. Le posso dire la verità? Fossi Icardi, io ci andrei. Icardi ha già sbagliato in partenza. Si è già rovinato la carriera quando ha scelto di firmare per il Paris Saint-Germain. Perché era chiaro come quando il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di alzare l'asticella, lui sarebbe finito fuori squadra. Insomma, era chiaro? No, era abbastanza chiaro a tutti quanti. E questo è successo. Adesso lui gioca il Galatasarai. Ora, io vedo Icardi un po' sulla falsariga di Balotelli e quindi ho paura che, anche perché gioca in Turchia, quindi ho paura che anche lui, un po' come Balotelli, possa poi finire a giocare, magari per una piccola, magari per il Monza proprio, magari provare a rinascere, magari provare... E personalmente forse è un po' troppo tardi. Icardi ha fatto il capitano dell'Inter. Icardi aveva dalla sua tutte le possibilità del mondo per stupire il mondo. Non l'ha fatto. Se dovesse arrivare un'offerta con tanti soldi per prendere Icardi dall'Al Nasr, io fossi Icardi direi vado a giocare con Ronaldo, vado a giocare all'Al Nasr, vado a prendere una barca di soldi, tanto ormai quello che doveva l'ho fatto e quello che dovevo sbagliare l'ho sbagliato, tanto vale rimanere sulla cresa dell'onda fino a quando questa possibilità c'è. E voi che fareste? E alla posizione numero uno, il Milan, che è pronto a spendere, secondo l'equipe, 15 milioni di euro per un talentino di nome Angelo, ragazzi. Gioca nel Santos, è un esterno d'attacco, anche il Napoli lo avrebbe opzionato, avrebbe provato a prenderlo, avrebbe instaurato dei contatti, il 21 dicembre scorso ha fatto 18 anni, quindi in questo momento può già partire, ricordiamo che questi calciatori devono aspettare, vi ricorderete Diago Silva, 18 anni per partire, forse con Neymar era successa la stessa cosa, forse con Vinicius era successa la stessa cosa, fatto sta che adesso Angelo è diventato maggiorenne, e quindi il Milan potrebbe prenderlo senza troppi problemi. Tra l'altro il direttore tecnico del Santos conosce molto bene l'Italia, perché è niente po' po' di meno che Paolo Roberto Falcao, che ha giocato con la Roma, e che in questo momento starebbe valutando la possibilità. 15 milioni di euro per un calciatore giovane, 18enne, in rampa di lancio sono tanti. Certo, vedendo poi il mercato, soprattutto in Brasile nell'ultimo periodo, come impazza, c'è la possibilità secondo me di pensare, cazzo io voglio guadagnarne 80, però raga, 80 li guadagni se c'è, se vale 80, 80 non li vale, il Milan insomma sarebbe facendo questo passo qui. Attenzione, perché il Milan ha bisogno come il pane di un'ala, e anche perché a destra, se la Magari e Messiasa non hanno ancora totalmente convinto, e Angelo potrebbe essere davvero il futuro profilo ideale per l'attacco del Milan. Eh sì ragazzi, eh sì, eh sì, eh sì, esig parade, esig parade, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, tantissimi mi piace, buo ciao all'allene come sempre, ci vediamo al prossimo video.